ma bentornati sul canale amici benvenuti ad un nuovo video pokemon potevamo non parlare dell'argomento della settimana le bustine in edicola della jadis in super offerta a 9 euro e 90 ma perché parliamo di queste bustine beh dopo il delirio del 751 e il buyout sulle varie piattaforme di tutte le carte più costose in particolare il charizard non abbiamo finito con le follie e le assurdità del periodo estivo 2024 perché adesso si è verificato un nuovo fenomeno peraltro questo fenomeno mi era sconosciuto non ne sapevo nulla però qualcuno nei commenti mi ha scritto e informato di questi blister pacche e allora mi sono documentata tornando al 751 alcuni mi hanno scritto che su car market molti mettono le carte nei carrelli per farle sparire ma in realtà in parte sì in parte no perché comunque c'è stato un buyout è un fenomeno che come vi ho detto ha iniziato a manifestarsi con sole luna e ogni tanto riappare quelli che acquistano le carte le acquistano in massa per poi rivenderle più avanti a prezzi esagerati e comunque già adesso ho pubblicato uno short per mostrare quali sono le carte più difficili da trovare del 751 il charizard non è la carta più difficile da trovare anzi è la carta più presente sulle piattaforme devo dire che in quanto a copie di charizard ce ne sono circa il doppio rispetto alla kazan full art che invece si fatica a trovare in ogni caso io vi ricordo di non farvi prendere dal panico perché per quanto riguarda i charizard delle carte più ricercate può essere che non scenderanno di prezzo ma sicuramente le altre carte lentamente andranno a diminuire in particolare scusate se ve lo nomino di nuovo ma a me fa veramente cagare il golem full art che mi manca ancora per la collezione del mio amico giuseppe ma tornando ai blister pacche delle edicole che cosa è successo e soprattutto visto che me lo chiedete spesso perché io non acquisto bustine nelle edicole o meglio non è che non le acquisto mai diciamo le acquisto quando sono in vacanza ma solitamente acquisto da negozi specializzati bene qual è il fenomeno del momento io non ne sapevo nulla perché come detto solitamente non acquisto nelle edicole in ogni caso qualcuno mi ha segnalato che sono disponibili o meglio forse dovrei dire erano disponibili perché immagino saranno già spariti questi blister da tre bustine al super prezzo di 9 euro e 90 ora partiamo dall'antefatto queste bustine chiaramente sono già in vendita sulle piattaforme al doppio del loro prezzo ieri sera sono andata a controllare su ebay mi sono fatta delle grasse risate perché ho trovato diversi venditori che le propongono a 19,90 più spese di spedizione chiaramente forse qualcuno mette la spedizione gratuita quindi immagino che come sempre gli stessi probabilmente che comprano i chari zardosucar market per poi rivenderli al triplo del prezzo avranno acquistato anche tutte le bustine delle edicole immagino che non si troveranno già più non lo so sicuramente ho visto su ebay venditori che hanno addirittura la scatola con tutti i blister all'interno ci hanno acquistato tutto tra un po' acquistano anche l'edicola anzi consiglio a queste persone di acquistare direttamente un'edicola e aprire un'attività che forse è più redditizia in ogni caso tornando a noi qual è l'assurdità di tutto ciò ma l'assurdità fondamentale non è tanto che ci siano persone che comprano i prodotti per rivenderli a doppio del loro prezzo immediatamente ma l'assurdità è che ci siano persone che comprano al doppio del loro prezzo perché comunque io direi che se queste bustine sono disponibili in edicola 9 euro e 90 non riesco a capire il motivo per cui dovrei acquistarle da un privato su ebay o su un'altra piattaforma al doppio del loro prezzo se non sono disponibili me ne faccio una ragione e non le acquisto per principio perché non esiste proprio in ogni caso vorrei anche fare due conti se proprio proprio vogliamo scendere nel dettaglio perché sembrano le grandissime offerte della jadis dell'estate visto che in estate la gente compra meno carte e si dedica ad altre attività all'aria aperta e allora vai con le offerte vediamo se poi veramente un'offerta perché se facciamo due conti probabilmente con la calcolatrice perché oramai nessuno è più in grado di fare a mano una moltiplicazione una divisione o un'addizione in ogni caso i box di ossidiana infocata piuttosto che di evoluzione a palda che peraltro un'espansione che non si è cagato nessuno all'epoca si trovavano e si trovano ancora devo dire perché ci sono ancora 120 130 euro quindi se andiamo a fare due conti e dividiamo questo prezzo per il numero delle bustine presenti in un box scopriamo che alla fine paghiamo le bustine esattamente come questi blister proposti dalla jadis e siamo abbastanza sicuri di avere un certo pool perché dico questo perché adesso torno al discorso del perché io non acquisto prodotti nelle edicole solitamente o li acquisto solo quando sono in vacanza e ho voglia di sbustare ma non trovo negozi non scenderò troppo nei dettagli vi racconto solo in particolare un episodio ma ne potrei raccontare molti altri io apro bustine dal 2000 quindi di bustine ne ho aperte un'infinità sono in grado di capire se una bustina è stata manomessa in ogni caso a me è capitato in particolare una volta di aprire una serie di bustine che erano perfettamente sigillate nelle loro bustine all'interno della bustina jadis anti manomissione con l'involucro esterno sigillato tutto perfetto in un'edicola di montagna dove non sapevano neanche che cosa erano i pokemon e in questa bustina ho trovato all'interno una carta peraltro tutta mangiucchiata e anche una carta niermente comune chiaramente di un'espansione tipo di 15 anni fa che non si è cagato nessuno all'epoca di quella fase dei pokemon in cui nessuno collezionava carte pokemon ebbene questa era una bustina ne ho comprate penso circa 20 e erano praticamente tutte vuote quindi chiudo questa parentesi perché non compro nelle edicole ma semplicemente perché queste bustine fanno mille giri arrivano alle edicole vengono restituite tornano nelle edicole passano attraverso un'infinità di persone di mani e quindi non sono assolutamente convinta che possano contenere poi una quantità di pool identica a quelli che sono i pool dei prodotti quando ho iniziato a collezionare nel 2000 in particolare nel 2001 ho iniziato a comprare si andava nelle edicole si compravano le bustine scambi e gioca all'epoca c'erano solo collezionisti e persone che giocavano io un mio amico collezionavamo e giocavamo io mi divertivo moltissimo a giocare qui a volzano c'era un negozio che si chiamava collezio mania dove si acquistavano le carte e vi posso dire che all'epoca il charizard è quello nel set base prima edizione che adesso gradato vale non so esattamente ma credo sui 15 20 mila euro si comprava tranquillamente a 2 euro ci sembrava già un prezzo esagerato questo per dirvi che era tutto un altro mood perché la gente collezionava e si divertiva a giocare quindi io ho conservato molte carte perché comunque collezionavo giocavo però non c'era tutto questo delirio quando ripreso nel 2016 ancora la situazione era normale poi è degenerata all'inizio anch'io acquistavo un po ovunque e poi ad un certo punto ho iniziato a selezionare quindi concludo perché non voglio approfondire più di tanto questo argomento io personalmente preferisco acquistare da negozi specializzati dove i prodotti vengono inviati dal fornitore al negozio e il negozio specializzato invia a me il prodotto non ho mai avuto nessun tipo di problema chiaramente le bustine possono contenere pull possono essere vuote però sono tranquilla che queste bustine sono partite dal fornitore arrivate al negozio e poi vengono spedite a me e non hanno fatto mille giri di mille edicole di mille corrieri e così via ognuno è libero di acquistare dove crede in ogni caso tornando alle bustine da 9 euro e 90 fate come credete ma acquistare queste bustine a 20 euro è un'assurdità e un nonsense esattamente come seguire persone che sui gruppi telegram piuttosto che su facebook marketplace che sono ambienti che io assolutamente non frequento per questo motivo perché sono ambienti spesso frequentati da persone che speculano nel mondo pokemon facendo poi credere in realtà di essere dei grandi collezionisti infatti io non ho telegram non voglio creare gruppi telegram perché non voglio avere quella che io chiamo la discarica del mondo pokemon nel mio gruppo ci sono sicuramente persone di questo tipo che vengono sul mio canale mi lasciano i dislike potete come sempre lasciare i vostri dislike nei commenti non c'è nessun problema potete anche scriverne nei commenti che non è assolutamente vero e che nelle edicole si pullano carte straordinarie in ogni caso può essere che ogni tanto si trovi anche qualcosa di interessante anche a me è capitato però io torno a dirvi che io preferisco acquistare da negozi specializzati ognuno acquisti dove crede se volete acquistare anche al doppio del prezzo sulle piattaforme da privati è una vostra scelta certo è che più si mantiene questo mercato del bagarinaggio e più il mercato del bagarinaggio va avanti quindi io spero sempre che si torni a una realtà di collezionisti e di appassionati del mondo pokemon bene direi che per oggi è tutto vado a cercare in edicola queste bustine no ma assolutamente no allora punto 1 perché di origine perduta ho aperto con un amico 2500 bustine non abbiamo trovato il giratina alternative quindi dubito che lo troverò in questi blister da edicola con bustine raccimolate da chissà dove bene direi che per oggi è tutto di tutto mando a tutti un grandissimo abbraccio auguro a tutti una buonissima giornata h24 e ci vediamo presto con altri video e altre novità spero di non raccontarvi altre assurdità un abbraccione a tutti voi adesso vediamo presto